Non si svolgerà nessuna fiera generica dal 15 al 17 giugno, dal momento che il comune di Sulmona punta sulla valorizzazione delle tipicità sul coinvolgimento di tutto il centro storico dalla zona nord a quella sud. E quanto precisa l'assessore comunale con delega al commercio Stefano Mariani all'indomani delle rimostranze presentate dai commercianti del centro storico che hanno lamentato la mancata concertazione sulla fiera ma anche l'assenza di provvedimenti significativi dopo la massiccia protesta dello scorso primo marzo. L'assessore fa sapere di aver incontrato recentemente le associazioni di categoria concordando lo svolgimento di tre manifestazioni fieristiche o di intrattenimento nel corso della stagione estiva. Due sono state già calendarizzate. Si tratta dello street food o del consulito appuntamento con la fiera dell'assunta. Il terzo evento, che doveva essere primo in ordine di tempo, quindi a metà giugno, è stato procrastinato a settembre per la scarsa adesione degli operatori e per la tipologia della merce scelta. Ma Mariani a breve annuncia un incontro anche con tutte le associazioni dei commercianti. Stiamo portando avanti la nostra mission. Vogliamo evitare le solite merci, valorizzare quelle tipiche e oltre a coinvolgere tutto il centro storico, ribadisce l'assessore. Raccomandazione che sarà fatta anche agli organizzatori della fiera dell'assunta. Fermo restando che il regolamento per lo svolgimento delle fiere è indirittura d'arrivo.